c'è una terra bellissima lassù al limitare della grande pianura incastonata tra dolci colline e punteggiata di mille laghi ha conosciuto grandi fasti e oggi come norma nel bel paese si distingue per la sua voglia di fare in un paese come l'italia famosa nel mondo per la sua creatività e la geniale instancabile operosità questo territorio a cavallo tra le alpi e l'insubria nella degna espressione è la provincia di varese anche grazie a un sapere che non è mai andato perduto anzi ben custodito tra le pareti domestiche è passato di mano in mano di generazione in generazione un sapere oggi abbracciato da molti giovani che lo hanno saputo reinterpretare alla luce della tecnologia e di tutto ciò che è di utile il nostro mondo è in grado di offrire il nostro viaggio di scoperta inizia tra i rilievi della valcuvia un'ampia valle insinuata a nord del massiccio del campo dei fiori e separata dal lago maggiore solo da basse montagne intercalate a loro volta da strette valli di quota proprio tra queste pieghe a vararo c'è la fattoria di renato e chiara lui naturalista e ornitologo lei laureata in agraria con una tesi sulle capre e la preparazione dei formaggi vengono entrambi da una vita di città ma renato è sempre stato innamorato di queste montagne dove ha fatto le prime esperienze naturalistiche proprio qui vent'anni fa lui e chiara hanno acquistato un terreno e deciso di affrontare insieme la scommessa di un netto cambiamento di vita un cambiamento di libertà creare cioè un allevamento di capre sopra i 700 metri con tutte le difficoltà ma anche l'integrità dell'ambiente di mezza montagna il discorso altitudinale è stato per poter avere un ambiente ancora quasi integro dove poter trovare le cose che a me hanno sempre interessato visto che questo lavoro ovviamente ci condiziona a stare qua 365 giorni all'anno dalla mattina alla sera e allora io mi devo svegliare uscire di casa e trovare per esempio il picchio nero sulla pianta fuori il capriolo che mi passa soprattutto poi quando sono fuori con le capre posso esplorare l'ambiente e viveremo 365 giorni all'anno l'uscita al pascolo è un momento per me piacevolissimo perché tramite loro ho l'opportunità di conoscere e di esplorare tante cose una cosa che ho notato molto particolare relativa alla salvia non c'è una salvia selvatica qui da noi salvia glutinosa le capre da aprile quando ricominciano ad uscire fino a settembre non la guardavano nemmeno c'erano questi grossi assembramenti e ci passavano via dritte mi chiedevo perché io provo anche assaggiarle durante la stagione diciamo come mai non le mangio salvo poi accorgersi che a settembre inizio di settembre quando compiono il loro ciclo riproduttivo da un giorno all'altro diventavano immediatamente la cosa più appetibile ci si buttano dentro in gruppo e mangiano queste foglie la cosa è legata sicuramente a una strategia della pianta i calicini che non vengono ovviamente mangiati contenenti semi mentre loro mangiano le foglie ci si attaccano alle capre e vengono trasportati quindi per essere diffusi questo è il loro sistema e le capre come gli animali selvatici del resto sono i vettori evidentemente per le caprette la salvia diventa buona soltanto verso l'autunno ed è questa la strategia della pianta per attirarle e far portare via i suoi semi ci troviamo proprio nel mezzo di un ambiente naturale siamo nell'abita della faggeta e quindi incrociamo animali a destra sinistra dalla mattina alla sera alla notte ultimamente abbiamo queste due volpine sono giovani una delle due si è affezionata particolarmente e da un mese a questa parte ha iniziato a portarci via scarpe ciabatte stivali però a un certo punto mi ha rubato gli scarponi uno scarpone per il scarpone è fondamentale per uno che abita in montagna un movimento che non è sfuggito al telefonino di renato questo scarpone io ho girato giorni 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 tutta la zona niente da fare una sera alle quattro e mezza è arrivata l'ho sentita sono corso fuori l'ho tra virgolette buonariamente minacciato poi fatto sta che il giorno dopo sono uscito con le capre a 30 metri da qua è un posto che avevo battuto un sacco di volte ho trovato lo scarpone comunque questa sfida continua dopo i primi due figli è nata eva paragonarla alla piccola id è fin troppo facile verrebbe da pensare che quassù possa soffrire dei limiti propri di una piccola comunità quasi isolata ma non è così beh non ci saranno pure altri bambini però ci sono le capre caproni capretti mio cane da giocare una pepe pepe che è la mia preferita poi c'è udini che è color cappuccino poi c'è frisella che ha proprio la faccia di un camoscio ma non è un camoscio però anche se sono le capre grazie a camosciata allora soria di arugas filata sicario e poi ci sono i capretti e i caproni il più giovane che è più coccoloso marcantonio marcantonio e bellabartuc quelli che c'è quest'anno ovviamente eva è la cocca di mamma e papà e ogni mattina prima di andare a scuola scende nella stalla per fare una colazione fornita direttamente da uno dei suoi personali dispenser oggi tocca a pepe pepe la sua preferita questo latte di capra appena munto è naturalmente dolce ha cioè un sapore molto diverso da quello che abbiamo forse potuto assaggiare in bottiglia magari un po salato e così tiepido si presta molto bene per preparare quello che renato ha ribattezzato il capruccino ecco con tutta la schiuma spillato su due dita di caffè è una delizia difficile da descrivere tra le capre di renato e chiara proprio come in un branco selvatico esistono delle gerarchie e ognuna occupa alla mangiatoia un suo posto preciso per questo nella stalla esiste un angolino in cui le caprette in coda la gerarchia possono ritirarsi e sentirsi sicure dagli atteggiamenti un po aggressivi degli esemplari più alti in grado un piccolo soppalco di legno è sufficiente a ridare loro la serenità l'impiego del latte crudo è soggetto a regole sanitarie molto severe e a continui controlli batteriologici ma proprio qui sta il valore aggiunto dell'allevamento di renato grazie alla grande igiene il latte delle sue capre è di una purezza incredibile per migliorare la qualità della loro produzione e per il benessere degli animali hanno aderito a un progetto europeo condotto dall'università degli studi di milano consiste nel dare alle capre alcune sostanze vegetali naturali condensate i cosiddetti tannini per combattere i parassiti intestinali comuni negli animali al pascolo in questo modo senza intervenire con farmaci sono stati ridotti anche del 90 per cento e così non solo le caprette sono più in forma ma c'è una bella sorpresa nel periodo estivo la produzione del latte non diminuisce come avviene di solito evidentemente sono proprio caprette felici riguardo l'allevamento noi abbiamo sempre puntato molto al benessere degli animali abbiamo un numero limitato di animali su una superficie molto ampia per far sì che loro si trovino nel migliore dei modi che diano un prodotto eccellente chiara è specializzata nella preparazione dei formaggi per lo più di solo latte di capra avendo 30 capre e in media ogni capra produce 3 litri di latte al giorno è facile fare conti che noi non possiamo puntare sulla quantità per cui abbiamo scelto di diversificare al massimo le nostre produzioni di creare tante novità tanti tipi di formaggi tante ricette con tanti tipi di prodotti con le muffe giuste la muffa blu del blu di capra il penicillium candidum dei baci di vararo san carlin di varè caprino fermentato col pepe e prezzemolo caprino fresco e yogurt alla pera cercando di dare anche una vetrina a chi viene nel nostro caseificio provo una profonda soddisfazione dopo vent'anni la loro è ormai un'attività consolidata e portano le loro prelibatezze un po dappertutto nel nord della provincia e fino a milano ho avuto negli anni scorsi dei momenti di ripensamento dei momenti bui con i bambini piccoli inverni lunghi però siamo andati avanti e siamo molto felici di quello che abbiamo realizzato proseguendo verso est lungo la valcuvia dietro la prima costola della montagna c'è il comune di casal zuigno con la sua cinquecentesca villa della porta bozzolo oggi proprietà del fai fondo per l'ambiente italiano appena sopra il suo monumentale parco all'italiana c'è una piccola frazione cinque residenti in tutto abituati al silenzio e a guardare la valle dall'alto tra questi isabella anche per chi vi è nato vivere qui non è certo frutto del caso isabella viene però da più lontano entusiasmo per la natura desiderio di iniziativa la conquista di una vita diversa una sfida che ha probabilmente vinto già nel momento in cui è iniziata alcuni anni fa sono arrivata nel 2013 stavo cercando un terreno abbastanza grande da poter realizzare tutto ciò che avevo in mente ma non era assolutamente facile e appena sono arrivata in questo pratone ho avuto subito il colpo di fulmine mi sono innamorata immediatamente per la bellezza era proprio il classico prato magro delle prealpi varesine non c'erano recinzioni non c'era nulla pascolavano liberamente i cervi i muffloni di sera arrivavano i cinghiali non sapevo che poi nel tempo questo luogo si sarebbe perfettamente amalgamato con quello che sono io non c'era nulla ho cominciato a pensare cosa poter fare innanzitutto doveva essere custodito prima ancora di essere coltivato mi ricordo che la prima cosa che dicevo a tutti era ma io sarò il custode di questo di questo paesaggio era un momento della mia vita molto particolare perché era appena morto mio papà e quindi avevo questa grandissima forza di dover trasformare un grande dolore in qualcosa di bello in qualcosa di positivo e quindi ho incominciato subito con l'idea che avrei dovuto coltivare dei prodotti che si potessero fondere in in armonia con questo paesaggio e ricordo che vendevo addirittura il tarassaco selvatico dei prati andavo nel bosco a raccogliere i frutti spontanei iniziò coi nirtilli oggi ne produce oltre una tonnellata per poi coltivare in grandi orti senza lavorazione del suolo le verdure più adatte all'ambiente di mezza montagna nelle varie stagioni poi vennero diverse varietà di meli anche antiche oggi ne ha circa 6.000 un numero solo in apparenza alto infatti le piante non vengono concimate né trattate e fanno quindi poca quantità ma una grande qualità il 70 per cento viene scartato non è vendibile perché è mangiucchiato dal verme perché è stato assaggiato dal merlo tutto ciò che non è recuperabile diventa concime in parte diventa un ottimo mangime per le mie galline soprattutto e quindi il restante 30 per cento è quello meno difettato o alcune mele che sono perfette alcune che hanno dei piccoli difetti ma che ugualmente le persone apprezzano perché capiscono che sono estremamente naturali e chi alla mattina va di buon'ora a fare la spesa sul suo banchetto di cuveglio o in centro a barese e beh queste cose le sa l'aiuta la mamma rosanna e in molti sono saliti dal paese per aiutare e insegnare accogliendo isabella e sostenendola nella sua sfida per fortuna il suo terreno è ben esposto a sud e questo l'aiuta a prolungare la stagione operosa della raccolta poco lontano dietro un altro contraforte verde della montagna c'è arcumeggia il paese dipinto qui a partire dai primi anni 40 durante il secondo conflitto mondiale molti dei più importanti pittori italiani sfollati da milano ricambiarono l'ospitalità del borgo dipingendo opere murali che ancora oggi fanno di arcumeggia una vera pinacoteca all'aperto sassu usellini morelli ferrazi tantissimi e infine pedretti con il suo monterosa dipinto vent'anni fa ma l'espressione non si è arrestata continua per celebrare ricordare questo lungo fremito artistico culturale luigi ha realizzato qui un piccolissimo museo della fotografia tre piccole stanze piene di storia e di sincero amore per il paese io ero un fotografo più di bianco e nero ho cominciato a fare fotografie da dilettante e siccome li portavo in un negozio a sviluppare alla fine è stato il fotografo che mi ha coinvolto a lavorare anche per lui dopo aver lavorato un paio di anni o tre ho voluto cominciare a aprire una cosa mia personale e lì si è sviluppato questa voglia di continuare a fare fotografia ma poi il massimo di queste di tutto questo è arrivato quando è cominciato il digitale allora tutti si sono messi a abbandonare queste macchine a pellicole e il digitale invece è stato una cosa che è arrivata alla portata di tutti ed ecco qualcuno che dopo aver speso lunghi anni a fotografare in pellicola ha imparato presto la lezione del digitale enrico è quello che in gergo si definisce un dilettante evoluto ma per le sue capacità e soprattutto per la sensibilità della sua arte avrebbe potuto scegliere di essere un professionista la sua passione è per la natura e da qualche tempo ha abbracciato una tecnica un po' speciale quella definita della foto mossa controllata un effetto di mosso assai sapiente realizzato con un movimento speciale affinato nel tempo un metodo del tutto empirico che gli permette di creare straordinarie immagini astratte di grande bellezza quella che lui definisce la bellezza del nulla diciamo che questo genere fotografico ha fatto la sua storia mi è venuta l'idea perché avevo il collo la macchina fotografica come ce l'ho adesso e non so come mi era scivolata di mano ovviamente ce l'avevo al collo ed è partito uno scatto e ho inquadrato qualcosa di insignificante per terra e ho visto un risultato incredibile cioè che il soggetto che tu vedi anche il più banale o brutto possibile alla fine si trasforma e diventa una cosa straordinaria che ti dà un'emozione a volte che sono sembrano quelle pennellate di van gogh no che hanno grinta no e a volte invece la delicatezza uno dei suoi campi d'azione è la palude brabbia vicino a casa ci va in autunno e in inverno proprio quando la maggior parte dei fotografi vi trova raramente qualcosa di ispirante certo l'amore per la natura è sempre una ricca fonte di idee che ognuno coniuga però a modo suo nel giardino della sua abitazione a samarate nel sud del baresotto costante ha attrezzato un'officina modello stimolato dai volontari della ripu che hanno in gestione proprio la palude brabbia si dedica alla sua principale passione costruire nidi artificiali e mangiatoie per gli uccelli selvatici nelle brevi giornate invernali quando tutto sembra più silenzioso gli uccelletti tornano volentieri a farli visita per beccare qualcosa dalle sue mangiatoie la passione del legno l'ho sempre avuta le cassette nido sono 30 anni che le faccio ecco continuato sempre migliorando il prodotto facendo cercando adesso che ho tempo andare alla ricerca di tronchi già cavi vecchi bucati già lavorati dal picchio e poi ovvio che dal mangiatoie nidi cerco sempre di fare qualcosa di diverso di bello e ho affinato nell'arco degli anni conoscendo le abitudini degli uccelli facendo sì che loro possono trovare l'ambiente ideale sia per edificare che per nutrirsi a volte vado anche a recuperare dei mobili vecchi ritolgo i pennacoli che di solito vanno bruciati buttati via e da lì poi ci crea intorno la mangiatoia o il nido una delle mangiatoie di cui va più orgoglioso è quella per il picchio rosso il legno di betulla con una calottina in plastica recuperata da un lampadario a protezione dalla pioggia e dai topi assolutamente irresistibile tornando verso la valcuvia sia cittilio si prosegue per un po verso il lago maggiore si arriva a mombello una frazione di laveno proprio qui si è realizzato il sogno di laura dopo aver lavorato come immunologa presso l'istituto tumori di milano e come ricercatrice di una multinazionale farmaceutica 27 anni fa ha iniziato il suo progetto per creare una linea cosmetica completamente naturale la sua curiosità nello sperimentare nuove materie prime l'ha portata a realizzare qualcosa che in italia non esisteva dieci anni fa si poteva trovare la bava di lumaca solo come prodotto di importazione dal sud america peraltro liofilizzata da reidratare con acqua nasce un sogno nel sogno creare un allevamento di chiocciole per garantire la massima qualità di bava ripetibile nel tempo e soprattutto una cosa qui tengo tantissimo creare un allevamento dove non venisse alterato il ritmo della chiocciola ma dove la chiocciola portasse avanti la sua vita come se l'uomo non ci fosse la ricerca è stata lunga ma alla fine ha trovato l'allevamento ideale dove far crescere in salute le sue chiocciole in una bellissima cornice a castelnuovo berardenga nelle campagne senesi il papà di questi animali così speciali è roberto argentino avvocato e maestro di tango che a un certo punto della sua vita si è innamorato dell'italia io tra l'altro sono stata tanti anni fa il primo obiettore di coscienza italiano perché già nell'industria farmaceutica non gradivo portare avanti esperimenti su animali le chiocciole vengono raccolte manualmente per essere portate in il laboratorio dove dopo un breve lavaggio per pulirle dalla terra iniziano a produrre in totale naturalezza il prezioso secreto e anche un cicatrisante questa non facciamo assolutamente ausilio di macchinari anche per questo è stato fondamentale creare il nostro laboratorio perché siamo stati proprio i primi in italia a estrarre bava di lumaca senza l'ausilio di macchine una volta raccolto il secreto le chiocciole possono tornare a vivere nel loro paradiso di verdure fresche le proprietà sono leggermente esfolianti e soprattutto riparatori la chiocciola è un animale che striscia sul terreno ci sono asperità ci sono sassi ci sono rovi rami non abbiamo mai visto una chiocciola ferita il secreto è uno straordinario cocktail di sostanze non riproducibile in laboratorio e sulla nostra pelle ha un'azione leggermente schiarente ed elasticizzante tanto da essere considerato un'efficace antietà lasciando l'aveno mombello e superando il monte sasso del ferro si entra nell'ampio fondo valle della valcuvia ed ecco cuvio il suo cuore qui nella loro bellissima casa antica elena scenografa e gaetano editore e poeta svolgono la propria attività qualcosa di molto speciale sono nato ai piedi del pollino in un paese a breche ma la valcuvia ecco sono diventato un po parte di questa terra ho cercato sempre con tutto me stesso di ritagliarmi il tempo quello buono per per fare quello che le mie passioni che sono è stata sempre la poesia l'arte il teatro e dieci anni fa ho incontrato elena e allora forse dopo un anno e abbiamo incominciato a fare libri questa casa è una casa antichissima abbandonata da anni non aveva tetto la luce gas nulla l'unico abitante vivo era un gatto che dormiva su un letto abbiamo questa passione del fare i libri a mano perché è bello il piacere di toccare un oggetto creato con materiali che vengono da un passato magari volontariamente gettato via questo perché lo dico perché ogni nostra edizione è un'edizione diversa dall'altra editata è in pochi esemplari ognuno di loro è fatto a mano viene piegato e cucito a mano c'è una stanza in questa casa che è una stanza un po magica perché contiene tutti i fili che mia mamma mi ha lasciato fili di cotone di vario di vario colore e che vanno a suggellare queste pagine e vengono scelti singolarmente di volta in volta quindi proprio cucitura a mano con ago e filo è bello anche coinvolgere amici artisti e ci sono anche poesie di persone che non avrebbero mai immaginato di pubblicare a cui viene data la possibilità di mostrare quante bellezza ci possa essere nascosta oltre al laboratorio faremo anche delle piccole mostre speriamo che questo luogo possa ospitare tantissima gente e quasi a volere indicare la valcuvia come valle della cultura oltre cuvio verso luino c'è un altro artista a cunardo in una fornace ottocentesca giorgio allestito anni fa il suo atelier e la sua scuola di ceramica un luogo veramente ispirante mio padre negli anni 50 ha creato questo laboratorio quando noi eravamo ragazzini si veniva qua per cui è diventato il mio mondo e io ho sempre vissuto di questo è la mia vita fondamentalmente uno parte come artigiano poi dopo se ovviamente ha quel grip in più può diventare artista da qualche anno giorgio ha dato vita a un'associazione culturale che permette agli iscritti di utilizzare il laboratorio e tutti i materiali sono passati anche tantissimi scultori del novecento sono passati tutti eh da lucio fontana guttuso e molti artisti stranieri anche questo è un laboratorio vivo insomma insieme a tanti altri uomini di cultura uno degli ospiti più frequenti di giorgio fu lo scrittore piero chiara appassionato anche lui di ceramica realizza un piatto per ognuno dei suoi romanzi più importanti diventati spesso soggetti per film assai famosi qua era diventato un polo culturale non era solo un laboratorio di ceramica perché qua veniva anche herman s era bello cioè io la mia vita l'ho passata bellissimo perché con tutti questi personaggi attorno ma ecco il futuro giulia sta facendo l'accademia e lo affianca da tempo ma anche isa che studia in galles entrambe le allieve sono desiderose di ereditare la sua arte superando con un balzo queste montagne varese è lì che ci aspetta con le sue castellanze è fantastico pensare che oltre all'acqua dell'olona dai dolci declivi prealpini scaturisca anche una particolarissima birra sono le castagne delle selve di brinzio tritate con pazienza da massimo e conferite a carnago al birrificio di nicola messe a fermentare si trasformeranno in una birra gustosa e un po strana l'idea è sempre stata quella di associare alla cucina la birra invece che il vino questa è la birra con le granelle del massimo adatta sia in acquinamento che come aperitivo la scuola bianca è compatta un bel colore profumi che ricordano un pochettino le castagne ovviamente soprattutto il miele di castagno un po di uva di frutta fresca e anche un ricordo volgendo di nuovo lo sguardo verso i rilievi che chiudono a nord il capoluogo varesino su un promontorio collinare sorge una piccola castellanza santa maria del monte poche anime un santuario e un convento di clausura tra queste case antiche abita marinella animata da un sincero amore per il borgo marinella è una vera cultrice della sua storia e forse anche l'ultima a saper fare i souvenir e i dolcetti tipici di qui le giromette e i mostazzini è nata in questa casa e la sua famiglia è presente in paese fin dal 1500 la girometta è nata con ogni probabilità nel periodo in cui facevano tante brazzadelle le brazzadelle sono dei panini piccolini che sono stati in uso penso fino al 1500 le giromette sono nate quindi un bel po di secoli fa quella che vediamo attualmente è il soldatino napoleonico a natale preparo quelle dolci a raccogliere l'eredità culturale di marinella sarà alba chiara che già da qualche tempo l'aiuta i mostazzini sono invece dolcetti fatti con farina acqua noce moscata chiodi di garofano e cannella un vero disinfettante del cavorale e un miracoloso digestivo si possono anche gustare con un bicchiere di vino si vendevano nel bar di famiglia e in una foto d'epoca compare angela oggi la decana del paese mi chiedevano come ti chiami e io gli dicevo a geratorielli morettina bella sacromontina doc io avevo circa dieci anni mi andavo a scuola nel collegio delle suore del convento e passando sotto al portichetto della madonnina ho scoperto la pietra tombale questa pietra tombale e appartiene alla tribù unfentina e la tribù unfentina è stata fondata nel 318 avanti cristo fino agli anni 60 si leggeva perfettamente poi a sacromonte è arrivato il cherosene e la pietra tombale ha cominciato a sfaldarsi come si è finita a fare da architrave nessuno lo sa ma una leggenda parla dello spirito di un antico castellano del sacromonte morto in circostanze misteriose che vaga ancora per il borgo cercandola era il 72 73 avevo un cagnolone un bel cagnolone e mi ricordo che una sera sono passata sotto al portico dove c'è la madonnina ecco appena passata la madonnina ho visto proiettarsi sul muro questa ombra e in una frazione di secondo io il mio cane ci siamo trovati fuori cosa sia stato non lo so però insomma ho fatto poi anni a non passare di la paura ma mille e ancora mille sono le storie che girando tra questi monti è possibile raccontare sono vite e forse un po uniche talvolta curiose sempre interessanti ma soprattutto operose